Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate! Così è scritto in Matteo al capitolo 27. Or Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo Sei tu il re dei giudei? E Gesù gli disse Sì, lo sono. E accusato dai capi sacerdoti e dagli anziani non rispose nulla. Allora Pilato gli disse Non ho di tu quante cose testimoniano contro di te, ma egli non gli rispose neppure una parola, perché il governatore se ne meravigliava grandemente. Ora ogni festa di Pasqua il governatore soleva liberare alla folla un carcerato, qualunque ella volesse. Avevano allora un carcerato famigerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò a loro Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù, detto Cristo, poiché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Ormentre gli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire Non avere nulla che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno a cagion di lui. Ma i capi sacerdoti e gli anziani persuassero le turbe a chiedere Barabba e far perire Gesù. E il governatore prese a dir loro Quale dei due volete che vi liberi? E quelli dissero Barabba. E Pilato allora, che farò dunque di Gesù, detto Cristo? Tutti risposero, sia crocifisso. Ma pure riprese egli, che male ha fatto? Ma quelli vi più gridavano, sia crocifisso. E Pilato vedendo che non riusciva a nulla, ma che si sollevava un tumulto, Prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della moltitudine, dicendo Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi. E tutto il popolo rispondendo disse Il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli. Allora egli liberò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore, tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine gliela misero sul capo e una canna nella mano destra e inginocchiatesi dinnanzi a lui lo beffavano dicendo Salve, re dei giudei! E sputatogli addosso, presero la canna e gli percotevano il capo e dopo averlo schermito lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti poi lo menarono via per crocifiggerlo. Dunque Gesù dopo essere stato arrestato dai giudei fu portato davanti al Sinedrio dove fu appunto condannato a morte perché aveva dichiarato di essere il Cristo, il figlio di Dio e dopo appunto i giudei lo consegnarono al governatore della Giudea che era Ponzio Pilato. Dunque Pilato inizialmente voleva liberare Gesù lo voleva liberare perché non aveva trovato in lui nulla che fosse degno di morte e siccome appunto per Pasqua lui soleva liberare alla folla un carcerato e siccome che a quel tempo c'era un carcerato di nome Barabba e allora Pilato praticamente chiese chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto Cristo? e i capi, i sacerdoti e gli anziani persuasero le turbe a chiedere Barabba a fare perire Gesù e il governatore appunto come leggiamo prese a dire loro qual dei due volete che vi liberi? e quelli risposero Barabba. A quel punto Pilato disse loro che farò dunque di Gesù detto Cristo? tutti rispose sia crocifisso. Ora il popolo gridò sia crocifisso. Cioè Gesù doveva essere crocifisso doveva essere messo a morte nonostante non avesse fatto alcunché che meritasse la morte. Infatti così avvenne, infatti leggiamo che Pilato liberò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Infatti fu menato al Golgota cioè a Calvario al luogo del Teschio e là fu crocifisso in mezzo a due ladroni uno a destra e uno e l'altro a sinistra. E questo affinché si adempissero le scritture egli è stato annoverato tra i malfattori. Ora Gesù fu crocifisso. Perché fu crocifisso? Perché fu ucciso dai giudei? Perché così era stato scritto così era stato preannunziato predeterminato da Dio perché Dio aveva parlato tramite i profeti aveva detto per esempio tramite il profeta Isaia egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Dunque egli fu crocifisso affinché si adempissero le parole del profeta Isaia secondo cui appunto egli doveva morire per i nostri peccati sì perché lui Gesù non aveva peccato lui non conobbe peccato lui era il giusto il santo non aveva fatto alcunché di male ai giudei aveva fatto soltanto del bene infatti era andato attorno dopo che era stato unto di Spirito Santo e di potenza era andato attorno facendo del bene guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo perché Dio era con lui ma il bene che egli fece al popolo fu contraccambiato con il male e di fatti egli fu arrestato e poi appunto condannato a morte dunque affinché si adempissero le scritture perché Gesù di Nazareth o Gesù il Nazareno è il figlio di Dio che il Padre nella pienezza dei tempi ha mandato nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati egli dunque doveva lui il giusto doveva caricarsi dei nostri peccati doveva portarli nel suo corpo sulla croce affinché noi ottenessimo mediante la fede nel suo nome la remissione dei peccati e dunque egli fu crocifisso e dopo che morì venne un uomo di nome Giuseppe da Rimatea era un uomo ricco il quale era diventato anche lui un discepolo di Gesù naturalmente non aveva consentito all'operare dei giudei e questo uomo si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù e Pilato appunto fece sì che gli fosse rilasciato e Giuseppe allora da Rimatea prese il corpo lo involse in un pannolino netto e lo pose nella propria tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia e dopo avere rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro se ne andò e dunque Gesù quindi dopo essere morto per i nostri peccati fu seppellito ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti affinché si adempissero le scritture sì anche per quanto riguarda la resurrezione di Gesù Cristo era stato appunto preannunziato che il Cristo doveva risuscitare infatti Davide aveva scritto anche la mia carne riposerai in speranza poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ade se non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione Davide non parlò di se stesso ma parlò della resurrezione di Cristo dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ade e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione e queste parole che concernevano la resurrezione del 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 Cristo si sono adempiute in Gesù perché egli risuscitò dai morti il terzo giorno come se adempirano anche queste altre parole tu sei il mio figliolo oggi ti ho generato e dunque Gesù Cristo risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e dopo essere risuscitato apparva i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio si fece vedere da loro per diversi giorni mangiò con loro beve con loro parlò con loro ora questo è l'Evangelo la buona novella che Dio ha comandato che vi sia annunziata questa è la parola di verità ed è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede del giudeo prima e poi del greco poiché in questa parola cioè nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede quindi in Cristo Gesù io vi annunzio la remissione dei peccati vi annunzio la giustificazione perché credendo in Lui si viene si ottiene la remissione dei peccati e si ottiene la giustificazione solamente appunto credendo in Lui quindi la remissione dei peccati non si ottiene per opere buone che si sono compiute la giustificazione altrettanto si riceve per grazia mediante la fede affinché nessuno si glori nel cospetto di Dio e dunque vi esorto a ravvedervi a credere nell'Evangelo perché credendo nell'Evangelo sarete salvati dai vostri peccati sarete sarete giustificati e quindi sarete riconciliati con Dio otterrete la vita eterna quindi avrete la certezza di andare in cielo col Signore quando morirete sì perché coloro che muoiono muoiono in Cristo si dipartono dal corpo e vanno ad abitare con il Signore nella gloria nel Regno dei Cieli in Paradiso ma badate bene perché se rifiuterete di credere nell'Evangelo ciò che vi aspetta è il tormento all'inferno l'inferno è un luogo di tormento dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati quindi badate a voi stessi ravvedetevi e credete nell'Evangelo per ottenere la remissione dei vostri peccati a proposito il prete non può rimettervi i peccati voi cattolici romani che andate a confessarvi dal prete sappiate che quella confessione inutile quella soluzione che vi dà il vostro prete è inutile non serve a niente la remissione dei peccati si ottiene credendo nell'Evangelo ecco perché appunto vi esorto vi scongiuro nel nome del Signore a credere nell'Evangelo perché solamente credendo nell'Evangelo potete ottenere la remissione di tutti i vostri debiti che avete accumulato nel cospetto di Dio solamente credendo nell'Evangelo potete scampare essere strappati al fuoco dell'inferno dove siete diretti quindi io vi ho avvertiti vi ho avvertiti come giusto che sia perché voi vi trovate sulla via della perdizione e io ho il dovere di avvertirvi che se rifiuterete di credere nell'Evangelo sarete condannati per voi non ci sarà speranza alcuna di salvezza più no perirete perirete e ve ne andrete all'inferno nel fuoco è terribile terribile quello che vi aspetta se morirete nei vostri peccati quindi per l'ennesima volta vi rinnovo l'esortazione ravvedetevi e credete nell'Evangelo chi ha vecchi da udire o da